Ciao, benvenuti o bentornati su Italianoraculum, io sono Danilo e come avevo detto continuiamo con le letture per il futuro lavorativo. Questa settimana uso i tarocchi terra volatile, mazzo molto bello, e come sempre iniziamo dalla categoria delle persone che al momento non hanno un lavoro e lo stanno cercando. Allora, in questo mazzo ci sono diverse carte extra rispetto ad un mazzo di tarocchi tradizionale. Ad esempio c'è il seme dei contenitori, dei vasi, dei contenitori diciamo, all'interno degli arcani minori, che sono un seme più concentrato sul processo alchemico, quindi una trasformazione di tipo personale più che un evento pratico legato al denario, piuttosto che alle emozioni, piuttosto che alle parole, eccetera. In questo caso partendo con il re dei contenitori, io vedo il bisogno di migliorarsi per poter seguire quello che è poi il proprio scopo. Quindi sostanzialmente per voi che state cercando lavoro, questa carta potrebbe suggerire di fare dei corsi, potrebbe suggerire di prendere delle qualifiche in più e di fare esperienza, studiare di modo da poter essere più sicuri, più completi, più, almeno così a livello di presentazione sulla carta, più adatti ad essere assunti. Perché comunque le occasioni ci sono, ne perdete una, ne arriva un'altra, non è che rimanete senza lavoro perché proprio non lo trovate, però evidentemente vi manca ancora qualcosa a livello di qualifiche e dovete riuscire ad ottenerle, perché a quel punto le cose si sbloccano e potete iniziare il vostro percorso lavorativo con la possibilità di fare carriera, quindi non un lavoretto temporaneo tanto per avere due soldi. Quindi se ne avete la possibilità, realmente però non dandovi delle scuse, se avete la possibilità di fare questi corsi per migliorarvi, fatelo perché a quel punto la situazione per voi si sblocca. Corsi, apprendistato, quello che sia. Come sempre, ora la categoria dei dipendenti che però vogliono rimanere a lavorare lì dove sono e da quello che vedo c'è un periodo di grossa carica emotiva. Allora, se settembre non è andato benissimo, sicuramente il lavoro può essere stato pesante, può essere stato preoccupante, può essere stato antipatico. Certi colleghi, piuttosto che il capo, possono essere stati pesanti e antipatici. Ovviamente anche la vostra vita privata può aver influito su quello che era la vostra situazione al lavoro, però, quale che sia, questo bisogno di ritrovare un po' una vostra felicità, un vostro equilibrio nel marasma generale, riuscite a trovarlo. Vedo più serenità dei chiarimenti dove è necessario e semplicemente un'elaborazione di quello che è successo e quindi non andare avanti con la mente più chiara, più sgombra, più tranquilla. Ma attenzione perché non ci siete da soli, quindi comunque in futuro vi vedo un po' in contrasto con quello che sono i progetti altrui. Qua di nuovo è il seme dei... come lo posso chiamare in italiano? Perché contenitori non mi piace, sono tutte queste ampolle. Facciamo ampolle. Quindi è di nuovo un discorso di crescita personale, di perfezionamento personale, anche un po' metafisico se vogliamo. Quindi c'è una vostra idea, una vostra... ci sono delle vostre priorità, un vostro percorso che è un po' ostacolato da quello che fanno gli altri. Quindi vedo che comunque per quanto la situazione migliori dovrete continuare a cercare un po' quello che è la vostra dimensione, quello che è il vostro posto, di modo da non rimanere imbischiati in quelli che sono i progetti altrui. Ovviamente lavorativamente parlando, visto che siete dipendenti, questo può voler dire cercare una promozione, ma ovviamente non ci siete da soli e quindi trovare il modo per spiccare senza essere costantemente in competizione con qualcun altro. Potrebbe essere una richiesta di trasferimento che viene presa in considerazione, è un po' ostacolata perché bisogna vedere la situazione, dove volete andare, qual è, se c'è qualcun altro che prende il vostro posto nella sede che lasciate, cose di questo genere. Ovviamente c'è anche il discorso, appunto, di ideale nel vostro modo di lavorare, quindi quello che è il vostro massimo può non essere comunque quello che viene richiesto dal supervisore, direttore, dal capo, quello che sia. Quindi siate aperti a cambiare, non fare di più, perché non è detto che sia fare di più, può essere più pesante all'inizio perché non ci siete abituati, ma può essere semplicemente un imparare a fare le cose in modo diverso e lasciatevi quindi del margine di crescita per capire cosa vi è richiesto senza che questo vada in conflitto con quello che è la vostra idea di perfezionamento a livello lavorativo. Ora, la categoria dei dipendenti che vogliono cambiare lavoro, questa volta credo di averle invertite, se non ricordo male, però cambia niente. Quindi voi dipendenti che volete cambiare lavoro, dovete rendervi conto che il vostro capo, quale che sia, che sia il capo ultimo, che sia semplicemente il vostro direttore o caporeparto, quello che sia, è una persona abitudinaria, è abituata a fare le cose in un determinato modo e da lì non si schioda. Voi che invece potete crescere, potete capire, avete una mente più elastica e questo vi può aiutare ad imparare, dovete un attimino smontare, quindi dissolvere, quindi distruggere, se vogliamo, usare un termine un po' più forte, quello che è un vostro ideale. Di nuovo, anche qua abbiamo il seme delle ampolle, tra l'altro, qua in cima è rappresentata una delle versioni dell'appeso, anche se a guardarlo così ricorda un po' di più la temperanza come immagine. Quindi, cosa sto dicendo? Sto dicendo che il vostro voler cambiare lavoro potrebbe essere una scelta azzardata, potrebbe essere una scelta troppo affrettata, non ponderata abbastanza. Datevi un po' più di tempo e imparate a smontare le idee che vi siete fatti, imparate a decostruire quello che è un vostro modo di fare le cose e cercate di capire se non è il vostro capo che si sbaglia, ma è semplicemente una persona che ha un tot di esperienza e quindi vuole che le cose vengano fatte in un determinato modo e il contrasto tra di voi è dato dal fatto che dovete accettare il vostro ruolo di apprendista, diciamo, presso questa persona e quindi darvi il tempo di imparare a lavorare come vuole per poi capire se è un modo di lavorare che vi può soddisfare, che siete in grado di gestire e quant'altro. Perciò per chi di voi è un dipendente e vuole cambiare lavoro, le carte stanno dicendo fermatevi un attimo, vi siete costruiti voi un'idea di come dovrebbe essere il lavoro che non vi aiuta, quindi permettetevi di capire meglio le cose e permettetevi di decostruire quest'idea che vi siete fatti lasciando solo un punto di partenza che può essere giusto ma lasciando che questa persona vi insegni il resto. Categoria dei datori di lavoro Allora, abbiamo una situazione un po' particolare perché da un lato abbiamo dell'arroganza questa è una versione della torre in questo mazzo lo dico per chi sa un pochino le carte quindi magari riesce a farsi meglio un'idea però è una forma di arroganza che porta al fallimento seguito dal sogno che in questo mazzo è una versione delle stelle quindi vedo un'idea che porta ad essere eccessivamente sicuri di sé che viene poi sostituita da una sorta di illuminazione una sorta di epifania un pensiero molto spontaneo, molto libero che vi permette di pensare a quello che dovete pensare dire quello che dovete dire però poi di smetterla di mettere un punto su quella che è la faccenda mentale e quindi parlando di lavoro spostare il tutto più sulla sfera pratica materiale che tante volte trascuriamo in favore di rimanere un po' bloccati in quella che è la fase delle idee perciò voi datori di lavoro quelli che sono i vostri progetti devono essere rivisti un attimino perché la state prendendo nel modo sbagliato la state prendendo con una sicurezza di voi stessi eccessiva e una sicurezza di quelli che possono essere risultati che sono eccessivi vi arriverà questa illuminazione questa idea che vi ridarà speranza vi farà capire dove andare per davvero a quel punto potrete smettere di ragionare preoccuparvi chiedere opinioni altrui eccetera e fare quello che va fatto ultima come sempre la categoria dei lavoratori autonomi e di chi può avere un negozio o qualcosa del genere ma non ha dipendenti lo gestisce per conto suo e eventualmente qui possiamo vedere anche il gruppo delle società perciò persone che collaborano ma non ci sono titolari e dipendenti allora qui c'è una carica emotiva iniziale che vi identifica come persona a cui piace il vostro lavoro e che lavorano in modo da rimanere nell'ambito che vi piace sostanzialmente quindi voi lavorate soprattutto in questo momento per passione per piacere per col seme di coppe ci può essere anche una sorta di arricchimento personale eventualmente spirituale se siete operatori olistici oppure chiropratici massaggiatori e quant'altro quindi c'è anche un trovare il piacere nell'aiutare qualcuno all'interno del vostro lavoro non come volontariato sto dicendo questo porta a un miglioramento una fertilità una maggior ricchezza una maggior serenità una maggior positività in generale a generare più felicità più abbondanza quindi anche un discorso di scambi all'interno di questo però chiaramente sia la sfera economica che la sfera del benessere per come voi vivete la cosa sono interessate quindi il futuro lavorativo per voi migliora in questi sensi qua c'è però poi la carta la fertilità sarebbe una variante dell'imperatrice mentre il dogma è una variante del papa ora io non lo so se l'ho già detto sul canale però effettivamente io il papa ho delle difficoltà a vederlo positivamente per esperienze personali forse o per una divergenza di idee e qui vedo quello che è effettivamente l'energia che il papa mi comunica quindi un una sorta di imposizione dall'alto quindi quello che è il discorso di regola dovresti fare regola stabilita da chi ora il passaggio da fare quello che vi piace quello che vi dà serenità questo che genera abbondanza e ancor più gioia quindi ovviamente anche agiatezza anche denaro per quanto riguarda la sera lavorativa mi va un pochino in contrasto con quello che poi è un'idea di altre persone quindi nel vostro futuro voi andrete bene ma poi di nuovo perché ho la sensazione che sia una cosa che torna per voi questa vi dovrete scontrare con quello che sono gli standard di altre persone quindi potreste ricevere delle critiche potreste dover scendere a compromessi con un'organizzazione che ha i suoi modi di fare i suoi appunto come dicevo i suoi standard e quindi un'etichetta di comportamento a cui aderire parliamo dei lavoratori autonomi quindi potrebbero essere gli organizzatori di un evento a cui partecipate piuttosto che di un i proprietari di un locale in cui fate una presentazione o in cui esponete i vostri prodotti quello che sia ovviamente può anche essere in ambito se ad esempio fate delle conferenze fate appunto delle presentazioni ci può essere anche lo scontro con qualcuno del pubblico che cerca di contraddirvi per imporre il suo modo di vedere le cose allo stesso tempo voi stessi visto che è comunque una questione che parte emotivamente potreste dover ragionare su quello che sono i vostri standard e quindi anche quello che è una sorta di regolamento che avete ideato per voi stessi e che nel tempo è diventato forse troppo rigido avete cominciato a darlo troppo per sodato troppo per cosa vera e quindi su cui dovreste lavorare un pochino di più per non rimanerci incastrati sfruttare quello che è un senso di sicurezza che vi può dare sfruttare quello che è una situazione chiamiamola stabile che può generare ma non rimaneteci vincolati al punto da ostacolare voi stessi perché il lavoro va bene è che avrete bisogno di scendere a patio con terze persone o avrete bisogno di cambiare un attimino il vostro modello di lavoro e quindi abbandonare quello che è diventato un discorso di appunto di regole troppo rigide che però vi siete dati da soli ok io vi ringrazio per aver guardato il video come sempre vi ricordo che l'iscrizione al canale è gratuita mi aiuta semplicemente ad essere promosso ad altre persone su youtube persone che non sono ancora iscritte che non mi conoscono se il video vi è piaciuto lasciatemi un like i commenti sono sempre bene accetti anche un semplice ciao e ovviamente siete liberi anche di lasciarmi delle domande se avete bisogno di un chiarimento nella descrizione del video troverete il mio nickname di instagram e i dati per prenotare un consulto privato qualora decideste di fidarvi di me in quel modo vi ricordo che i consulti privati ovviamente però sono a pagamento e in ultimo ribadisco che questo essendo lettore generali non possono essere fedeli al cento per cento ad ogni situazione di chi guarda quindi le mie parole dovete anche imparare un pochino ad applicarle alla vostra situazione specifica bene detto questo ci vediamo alla prossima ciao ciao ciao